Il punto della situazione è che sostanzialmente è sotto controllo, ci sono state fatte anche delle proiezioni rispetto all'attuale andamento, se non ci saranno vorticosi incrementi o ondate anomale fino a Natale la nostra regione non rischia di passaggi di colore o restrizioni particolarmente significative, il che non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli, io invece approfitto dell'occasione per lanciare l'appello ad adottare comportamenti adeguati, purtroppo per molti l'abitudine, l'idea che essendosi vaccinati non ci si ammala, fa rilassare troppi costumi, ci sono troppe situazioni di assembramento in cui vengono meno tutte le difese e con l'arrivo del freddo evidentemente tutti più esposti. Abbiamo registrato un aumento significativo, il 25% dell'incremento di questa ultima settimana si registra nella fascia di età sotto i 13 anni, che è la fascia di età che come sapete non è vaccinata, nella fascia di età che invece arriva a 19% l'incremento è solo del 7%, è evidente che c'è una differenza, tuttavia questi bambini, questi ragazzi poi non finiscono in ospedale e rischiano di finirci le persone invece più anziane e quindi lì c'è sempre una netta prevalenza di persone non vaccinate che finiscono in ospedale o che finiscono in terapia intensiva. Quindi noi abbiamo dato indicazioni di intensificare le campagne di tracciamento, tamponi, oggi gran parte della popolazione che si è vaccinata tende a non farlo più perché lo ritiene non necessario e poi magari scopriamo gli asintomatici quando finiscono in ospedale per altre ragioni, una quota significativa delle persone che vengono registrate come pazienti in area medica di malattie infettive sono in realtà persone che non avevano sintomi che sono andate in ospedale per fare altri tipo di accertamenti o di operazioni e poi sono state scoperte positive ai controlli e quindi a quel punto poi vengono registrate ma non avevano sintomi o conseguenze così gravi da meritare appunto una ricovero causa Covid. Resta il fatto appunto che l'incidenza delle persone non vaccinate tra quelle che finiscono in ospedale e che finiscono in terapia intensiva è molto 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 superiore a quella di chi si vaccina e dobbiamo quindi intensificare la campagna vaccinale, convincere le persone a farlo e tornare a farlo per chi ha superato i sei mesi dal secondo vaccino e deve appunto fare il richiamo e noi stiamo al lavoro per intensificare questa campagna, alzare le difese, quindi da un lato unire a maggiore rispetto dei comportamenti del distanziamento, dell'igiene, della cautela e della precauzione e una intensificazione sulla profilassi.